buongiorno a tutti volevo fare un breve video sull'evoluzione dell'esperimento super top bar come mi è stato chiesto intanto vi faccio vedere oggi è 27 gennaio la situazione che direi è ottima io lo considero un esperimento riuscito a metà insomma almeno per il momento ecco lo faccio vedere non è stato costruito però come vedete loro lo utilizzano comunque nel senso l'estate lo usano come valvola di sfogo almeno quest'anno e lo hanno c'era sempre molto molto attività era molto pieno però non hanno costruito quest'estate ho aumentato gli spazi aperti togliendo i listelli di garret però devo dire che l'arnia è andata benissimo questa è la situazione interna come vedete molto popolosa l'arnia allora quest'estate ad agosto quando smirato era totalmente piena ma lo era già dalla prima stagione e qui c'è un po di umidità vabbè perché è mattina quindi diciamo esperimento a metà perché gli do un'altra possibilità quest'anno comunque l'arne è andata benissimo avendo anche la parte superiore ultima cosa lo sguardo generale alla la struttura esterna questa ormai è il secondo inverno che affronta e per farvi vedere lo stato della verniciatura c'è da ridare un po di olio ma direi non ci sono problemi strutturali particolari a parte questa crepetta qui ma vi ricordo che è da 31 quindi probabilmente nella parte interna neanche c'è ok quindi fatta la considerazione della parte interna e della mole della famiglia in questo periodo dell'anno direi che l'esperimento è riuscito a metà nel senso che non hanno costruito sopra ma come vedete importano polline proprio a go go e la famiglia è numerosissima per essere pieno inverno vediamo quest'anno se saliranno altrimenti comunque ormai la lascerò così non credo che la toglierò vedremo perché comunque mi sembra che la famiglia abbia sfruttato anche lo spazio superiore come valvola di sfogo invece di fare una barba esterna per il calore andavano sopra e quindi risolvevano e niente volevo aggiornarvi solo per questo bisogna anche ammettere quando le cose non vanno come si pensa non è ancora detto ma per il momento questa è la situazione poi vi terrò aggiornati ciao a tutti aranardo top bar e vi ringrazio di cuore per l'aumento degli iscritti e per voi che mi sostenete ciao e grazie di nuovo